Buona e santa giornata a tutti. Invochiamo l'amore misericordioso di Gesù e la protezione della nostra Mamma Celeste. Come sempre, su di noi, sulle nostre famiglie, sulle nostre case, sulle persone che portiamo nel cuore, sugli ammalati e sofferenti, su quanti lottano con qualche problema o con qualche grave malattia, per quanti hanno nel cuore dei progetti, dei propositi, per chiunque lotta e spera, ma anche per chi vive un momento di disperazione, di smarrimento. Il Salmo della liturgia di oggi, che è il Salmo 144, così ci fa pregare e così noi preghiamo e speriamo. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore, buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le sue creature. E allora diciamoglielo questa mattina, quest'oggi al Signore. Signore, sii verso di me, misericordioso e pietoso. Mostrami il tuo cuore e il tuo amore. Non adirarti con me perché sono un peccatore. Buono sei tu, Signore. È così buono anche verso di me. Fammi sentire la gioia di essere toccato dalla tua tenerezza. Fratelli e sorelle, le sofferenze nella vita non mancheranno mai. Le lotte quotidiane e i problemi, i fallimenti non mancheranno mai. Però insieme a tutto questo non ci mancherà mai la benedizione del Signore. Camminiamo con Lui, viviamo con Lui, invochiamolo. Chiamiamo Maria, nostra Madre, come testimone del nostro cammino. Affidiamoci ai Santi, agli Angeli Custodi e cammineremo sicuri verso il Paradiso. Forse zoppicando, perché la vita ci farà zoppicare per tante cose, ma con il cuore lieto, perché orientato verso il cielo. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Vi voglio bene. Santa giornata a tutti. E non mollate mai.